Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per martedì 11 agosto. In Veneto cielo ampiamente soleggiato ma verso sera la nuvolosità sarà in aumento. Nei rilievi cieli con addensamenti a partire dal pomeriggio e non si escludono deboli piogge serali. Temperature senza variazioni di rilievo minime tra i 18 e 24 gradi massime tra 30 e 34 gradi. In Friuli Venezia Giulia sarà assolato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e 25 gradi massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata con tempo variabile con maggiori schierite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi con deboli piogge. Su prealpi ed alpi nubi in aumento del pomeriggio con possibili piogge serali. Temperature minime intorno ai 19 gradi massime tra i 32 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci!